Addio alla gloria, fratelli e sorelle, ci ritroviamo ancora in questa occasione insieme per leggere insieme e meditare la parola del Signore secondo la guida che il Signore ci darà. Vorrei invitarvi ad aprire le vostre Bibbie insieme a me, nel Libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, leggere qualche versetto, dal versetto 22, che dice così La folla insorse allora contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano in addio, e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono. Addio la gloria, fin qui la lettura, un episodio molto noto a chi frequenta le nostre adunanze, a chi da tempo legge la parola del Signore, fa riferimento ad un particolare momento storico di avvio dell'opera della Chiesa, e qui i personaggi di cui abbiamo letto questa storia realmente accaduta, sono Paolo e Sila, due servitori del Signore. In particolare, essi vennero a trovarsi in questa situazione particolare, difficile umanamente parlando, perché stavano evangelizzando la città di Filippi, e nel loro procedere una donna si avvicinò a loro, li seguiva, dice la scrittura, e invitava altri a seguirli, ad ascoltarli, quali figlioli di Dio, quali servitori di Dio. Ma questa donna non parlava perché al suo interno aveva del bene, ma parlava perché al suo interno c'era una realtà sinistra, malsana, che l'Apostolo Paolo sentì il dovere di dover sgridare nel nome di Gesù. Così ne conseguì che questa donna perse il suo potere, che fruttava molti denari ai suoi proprietari, e vennero posti in prigione appunto perché questi proprietari si ribellarono e aizzarono la folla contro di loro. E questi uomini, pur avendo agito del bene in favore di un'anima, pur parlando con parole di grazia nel loro procedere nelle varie città, si trovarono in questa situazione, furono condotti in prigione, dice la scrittura, furono cacciati in prigione, e fu comandato al carceriere a cui vennero affidati di sorvegliarli attentamente, dice la scrittura. E quest'uomo, non avendo solo loro come carcerati, ma essendo caricato di doverli attenzionare particolarmente, pensò di relegarli nella prigione più profonda, nella parte più interna del carcere, e di mettere a loro dei ceppi, pensando che questi potessero in qualche modo, in qualche misura, tentare la fuga. Ma dice la scrittura, ed è quello a cui vogliamo riguardare stasera con l'aiuto del Signore, che mentre passavano le ore, mentre passava il tempo, questi uomini di Dio, Santi, Pi, non si fecero scoraggiare dal momento triste, dal momento difficile, eppure si trovavano in una prigione buia, eppure si trovavano in una prigione sicuramente a sé, in gusta, le prigioni di quell'epoca, non sono certamente le prigioni di oggi, ma questo non portò in loro alcuna tristezza particolare, anzi, colsero, seppero cogliere, ebbero la forza, ebbero il desiderio di cogliere l'occasione di continuare a pregare il Signore, e di farlo cantando degli inni a Dio, benedetto il nome del Signore. È un'esperienza forte che stavano vivendo, altre volte erano stati osteggiati per la loro fede, non sarebbe stata la prima volta, sicuramente non sarebbe stata l'ultima volta, ma loro non avevano mai deposto la loro attitudine, non avevano mai deposto il loro zelo, il loro fervore per il Signore, ma soprattutto in questa sera possiamo considerare che questa ennesima prova per la loro fede, questa ennesima prova per la loro costanza nel Signore, questa ennesima prova nell'ambito del loro servizio, non bastò per porli nella condizione di dover riflettere se andare avanti o se fermarsi, se proseguire in questo cammino o di fede o se fermarsi, se proseguire in questo servizio o se fermarsi. Certo i momenti particolari sono momenti che inducono dalle riflessioni, ma benedetti i cuori che discernono bene su ciò che devono riflettere e mai e poi mai presuppongono il fermarsi nel cammino del Signore, mai presuppongono il separarsi dal cammino del Signore. Certamente questi uomini non erano a questo rischio esposti perché erano lì in fedeltà, erano lì consapevoli che il Signore li avrebbe benedetti, che il Signore li avrebbe sostenuti in questa prova, ma per noi che siamo oggi impegnati in questo cammino, in questo santo pellegrinaggio, guardiamo a questa storia con fiducia che in questa sera possiamo ricevere questo incoraggiamento da questa storia, possiamo ricevere incoraggiamento dall'atteggiamento spirituale che questi due servitori di Dio assunsero in una delle loro prigioni. Mentre vivevano in questa circostanza, essi non scelsero di giacere in questa circostanza, ma pur avendo i ceppi ai piedi, pur non potendo muoversi, pur non potendo entrare ed uscire, lì dove si trovavano scelsero di emergere in questa situazione, di elevare il loro spirito in alto, di elevare non solo il loro spirito, ma il loro cuore in adorazione, in preghiere, in lode a Dio, benedetto in nome del Signore. E c'era qualcuno che li ascoltava. Certamente abbiamo letto, c'erano degli altri carcerati che ascoltavano un atteggiamento diverso, e così è anche per noi. Mentre siamo, dice la scrittura, provati come tanti altri nostri fratelli, mentre siamo a vivere le situazioni come tanti altri nostri fratelli, più o meno difficili, più o meno complesse, o anche altri uomini intorno a noi, donne intorno a noi, che in noi si possa vedere un atteggiamento diverso, una posizione spirituale sempre presente di chi confide in Dio e di chi ha affidato la propria vita a Dio, sapendo che nulla può accadere ai filori di Dio se il Signore non lo permette e che nulla sfugge al suo controllo. Abbiamo sempre motivo di cantare al Signore, abbiamo sempre motivo di lodare il Signore, abbiamo sempre motivo di adorare il Signore, abbiamo sempre motivo di pregare il Signore, tant'è che l'Apostolo Paolo ancora nelle sue lettere avrebbe incoraggiato a seguire i credenti, a non cessare mai di pregare. Noi non preghiamo perché le cose ci vanno bene e non preghiamo neppure perché le cose ci vadano bene. Noi preghiamo perché desideriamo mantenere viva la nostra comunione col Signore. La preghiera è un mezzo, uno strumento che il Signore ci ha donato affinché questa comunione possa esprimersi, affinché questo dialogo possa mantenersi attivo. Certamente siamo incoraggiati dal Signore a pregare e anche a chiedere. Dice il Signore Gesù chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Ma quante volte invece la preghiera è la prima cosa che il credente sarebbe quasi portato nella sua tristezza, nel suo sconforto a tralasciare. Così non sia per ciascuno di noi in questa sera, ma vogliamo guardare a questo esempio, vogliamo guardare a questi uomini che furono battuti per l'Evangelo, che furono imprigionati. Addirittura qui abbiamo letto la folla insorse contro di loro e li furono anche dai pretori strappate le vesti. Benedetto è il nome del Signore. Forse viviamo delle situazioni che ci hanno tolto ogni bella veste di dosso, ma dobbiamo ricordarci che negli ambiti dello Spirito siamo stati rivestiti e c'è qualcosa che nessuno ci può togliere, è quello che nel libro di Isaia viene nominato come il manto della lode. Quello nessuno ce lo potrà togliere se noi non lasceremo che questo accada. Noi in ogni situazione vogliamo lodare il Signore, come dice il salmista, loderò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. È un atteggiamento spirituale. Noi non lodiamo il Signore quando siamo felici, lo lodiamo quando siamo felici e lo lodiamo quando siamo tristi. Lo lodiamo sempre perché abbiamo compreso che Egli è degno della nostra loda, accada quel che accada. In qualsiasi situazione noi ci troviamo a vivere, sappiamo che è per un tempo e sappiamo che il Dio è in controllo su ogni situazione che riguarda la nostra vita. Non siamo legittimati a tralasciare la preghiera, non siamo legittimati a tralasciare la lode, non siamo legittimati a salmeggiare a Dio, a cantare a Lui sotto l'impulso della grazia, come dice la scrittura, perché anche nelle prove, anche nelle difficoltà, anche nelle ristrettezze, anche nelle necessità, anche nelle malattie, come abbiamo detto, c'è questo impulso della grazia di Dio, l'avvertiamo sempre presente alla grazia di Dio, realizziamo che Egli è presente nella nostra vita, ancora per rinnovare i Suoi favori, ancora per rinnovare la Sua grazia. Oh fratello, sorella cara, possa tu prendere forza in questa sera e assumere quel sano atteggiamento spirituale di chi confida in Dio e di chi lo loda del continuo, o di chi sa pregare in ogni circostanza, sa piegare le proprie ginocchia all'Eterno, perché Egli ha cura di noi. I carcerati li ascoltavano, certo era un altro modo di stare in carcere, era un altro atteggiamento fra i carcerati che spiccava, era qualcosa sicuramente di nuovo, ma non era solo perché cantavano, ma cantavano a Dio e nel cantare a Dio esprimevano la loro fede, esprimevano la loro certezza nel Signore, esprimevano quella certezza di speranza che albergava dentro al loro cuore. Noi non cantiamo le canzoni vane di questo mondo, noi anche in questo ci vogliamo distinguere, è il nostro canto dal momento in cui abbiamo dato il cuore al Signore va rivolto solo a Dio, benedetto sia il nome suo santo. Vogliamo consacrare quest'aria della nostra vita ancora a Lui, affinché nelle nostre labbra ci sia la lote dovuta al suo nome, affinché noi possiamo continuare a essere servitori di Dio, accada ciò che accada, servitori di Dio nella preghiera, servitori di Dio che lo lodano, servitori di Dio che lo adorano, servitori di Dio che lo cercano e che invitano altri a cercarlo, a benedirlo, a invocarlo, perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ad un tratto, loro non sapevano cosa stava per accadere, ma il Signore era pronto, non c'erano solo i carcerati ad ascoltare il loro canto, ma c'era anche un altro che ascoltava il loro canto, e dal cielo il Signore ascoltava il loro canto, ma ancora Egli si benignò ad un tratto, a un certo punto, in un momento, mentre loro comunque non tralasciarono questa attitudine di canto, di adorazione, di lode e di preghiera, e continuativamente, verso la mezzanotte, prima, a cavallo e dopo, questi due servitori di Dio assumevano e mantenevano questa posizione spirituale ad un tratto, dice la scrittura, vi fu un gran terremoto e la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Benedetto il nome del Signore. Io non so se qualcuno che magari può trovarsi in ascolto ha smarrito e ha perso la libertà di lodare il Signore, di pregarlo, di cercarlo, di invocarlo. Bene, in questa sera, se guardi insieme a me questa scrittura, possa tu comprendere e conoscere, per rivelazione di Spirito Santo, che c'è uno che può liberare le tue mani, che può liberare i tuoi piedi, ma voglio dire ancora con franchezza, che può liberare la tua bocca affinché tu possa lodare il Signore assumendo questa posizione nello Spirito. Lodarlo anche se non vedi ancora il termine della prova. Lodarlo anche se non vedi il termine di questa condizione nella quale ti senti ristretto. Lodarlo anche se sei limitato, confinato in una determinata circostanza. Lodarlo, 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 benedirlo, pregarlo, invocarlo, cercarlo con tutto il tuo cuore, perché egli si lascerà trovare da te. Non c'è prigione tanto bassa, tanto profonda, che possa impedire al Signore di raggiungerti. Non c'è condizione che possa impedire al Signore di raggiungerti, ma se tu guarderai a Lui con fede, se tu griderai a Lui con fede, se tu sceglierai invece che maledire gli uomini, invece che lasciarti andare a parole vuote, a parole vane, di usare le tue labbra per lodare il Signore, il Signore manifesterà la sua presenza nella tua vita. E non è una novità che quando il Signore manifesta la sua presenza nella vita di chi si affida a Lui, opera grandi liberazioni, opera prodigiosi interventi. Egli mette a largo colui che è ristretto da catene, Egli spezza le catene della malvagità, Egli spezza le catene del peccato, Egli spezza le catene che vogliono bloccare una vita di cammino e di servizio fedele a Lui. Egli spezza nelle vite di coloro che si affidano a Lui tutte le realtà che possono bloccare, impedire lo sviluppo e la crescita spirituale. Ma qual è il tuo e il mio atteggiamento quando siamo a trovarci in situazioni similari, similmente noi a questi uomini desideriamo presentarci, qualsiasi sia la situazione, con la fede nel cuore, con la certezza che Dio è con noi, con la certezza che il Signore è in nostro favore, con la certezza che niente ci separa da Dio. Già adesso non c'è alcun peccato che ci può impedire nella nostra preghiera verso di Lui, e la certezza che se così è, niente né nessuna cosa ci separerà dal Signore. Non saranno le battiture, non sarà l'essere spogliati per qualche frangente, per qualche tempo di qualche vestimento, perché saremo rivestiti dall'alto ancora del manto della loda, e questo ci riscalderà il cuore, anche se gli occhi umani non potranno vederlo, ma nello Spirito noi sentiremo il calore di questa attitudine, di questa realtà che lo Spirito Santo accende dentro di noi e ci spinge, considerando la grazia di Dio che ci coinvolge, che ci proietta sempre verso il futuro, il futuro eterno, ma anche nel superare le prove, gli ostacoli e le difficoltà con l'aiuto e la grazia del Signore, noi loderemo il Signore oggi, domani lo loderemo sempre, e aggiungeremo ancora nuove testimonianze all'ode e gloria del Signore. Voglia il Signore aggiungere ancora fede nei nostri cuori, voglia il Signore ancora farci ben spendere il tempo che abbiamo, anche se vorremmo a volte vivere altre situazioni, ma ogni situazione può vedere il tocco della mano di Dio, ogni situazione può vedere il Signore glorificato, se noi glielo chiediamo, se noi a Lui ci presentiamo con cuore umile e sincero. Addio la gloria, con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.